Le sembra giusto sospendere la mensa ad un bimbo se il genitore non paga per qualsiasi ragione? No, non mi sembra giusto, ma tutti i bimbi hanno bisogno di nutrirsi, per cui qualcuno deve provvedere, secondo me. Ne penso che sia giusto, bisogna che tutti si riesca a pagare i nidi, bisogna fare così come si può, è giusto, magari per il bambino direttamente no, però per i genitori bisogna che chi manda i bimbi ai nidi abbia le opportunità per mandarceli. Mi sembra un po' esagerato, perché non se lo possono permettere, che deve fare? Deve fare morire il figliolo? Io penso che almeno dieci giorni di tolleranza, due settimane va bene. Lo ritiene giusto? No, troppo esagerato, perché comunque la gente fa sacrifici giorno d'oggi, poi non è facile chi ha due o tre figli pagare tutto. Penso di no, perché comunque ci sono famiglie, genitori che non hanno le possibilità e quindi comunque è giusto tutelare i bambini prima di tutto. Mi sembra, non mi sembra giusto, perché comunque è un servizio che dovrebbe essere, va mantenuto, non dovrebbe essere negato a nessuno. Non va bene sospendere la mensa, ecco tutto qua. Perché? Eh, non va bene, dai, sospendere la mensa a un bambino che non può pagare un genitore oppure c'è un momento di ritardo, un momento che, sai, nelle famiglie un po' di problemi ci sono, non c'è solo la mensa, ci sono tanti problemi nella famiglia. Bisogna vedere i motivi per cui non si paga e se effettivamente il comune ha pensato a aiutare le famiglie che non possono pagare, insomma dicono che le famiglie non possono pagare, sono tutelate in merito, quindi vediamo come si evolve la situazione, non credo sia una questione definitiva. Se benestante, insomma, bisognerebbe la pagasse, perché si paga tutti, perché lui la deve pagare. Io l'ho sempre pagata, anche se non sono stata tanto benestante.